E rieccoci qua cari amici, bentornati in questo nuovissimo podcast in due. E quest'oggi è un podcast un po' particolare, quest'oggi siamo a distanza ma per ragioni ministeriali che diciamo no Michele abbiamo voluto rispettare. Sì abbiamo voluto rispettare, tutti siamo a conoscenza di questo nuovo decreto uscito tra la notte di sabato e di domenica mattina e che ha scompigliato un po' tutti potremmo dire. Sì diciamo che tutt'ora, tutt'oggi nonostante sia mercoledì 11 ancora non sono chiarissime diciamo tutte le dinamiche e tutte e soprattutto gli obblighi che i cittadini devono osservare. Se non diciamo il divieto praticamente per chi è nella zona rossa di uscire o entrare dalla regione o dal comune o dalla provincia in questo caso. E insomma è una situazione che sicuramente sta creando molto scompiglio ma che a parer mio modestissimo parere è necessaria per poter contenere un virus di queste dimensioni e soprattutto insomma per poter evitare che si propaghi ancora di più il contagio. Perché vi ricordo siamo passati ad essere la seconda nazione con più deceduti dopo la Cina quindi molto grave secondo me la situazione. Esatto è molto grave e quindi ragazzi lo diciamo subito così ve lo diciamo per evitare il contagio state il più possibile a casa ed evitate il più possibile di socializzare in modo appiccicoso potremmo dire. Esatto non siate mi raccomando i burloni della situazione che ve ne fregate di tutte e di tutti e soprattutto ricordatevi non è un aperitivo il sabato sera in questo momento in mezzo alla gente che vi rende forti vi rende come dire superiori e in grado di poter fare cose che magari altri non riuscirebbero a fare. No assolutamente restatevi in casa anche se non siete diciamo anche se non siete nella zona magari rossa o arancione per precauzione comunque limitati i contatti perché vi ricordiamo che questo virus ha un incubazione asintomatica di 14 giorni quindi non possiamo sapere veramente con chi per con quali persone anzi abbiamo a che fare attenzione a ciò che si fa. E oltre a questo il vero metodo per sconfiggere il coronavirus non è fare finta di niente e dire il coronavirus non mi ferma hashtag Milano non si ferma Parma non si ferma no non è quello essere forti e essere fighi in questo momento l'essere forti e essere fighi per sconfiggere questo tipo di virus è quello di rimanere in casa e limitare i contatti sociali come detto. Esatto esatto attenzione attenzione mi raccomando io personalmente poi magari chiederò anche a te Michele che quest'oggi non siamo in vicinanza ma siamo in contatto diciamo remoto chiederò anche a te cosa ne pensi io non sono mai stato molto d'accordo in realtà con l'hashtag Milano non si ferma Parma non si ferma eccetera. Allora diciamo che all'inizio sembrava forse sì questo è vero all'inizio poteva sembrare qualcosa di più blando no però dal momento in cui si è trasformato in qualcosa di più difficile da superare e soprattutto abbiamo capito veramente qual era la gravità della situazione perché sai uno finché è in Cina non dico che se ne frega no però quasi. No allora a mio parere sì nel senso questi hashtag certo erano fatti per non magari buttarsi giù nelle difficoltà però comunque appena è arrivato in Italia sarebbe stato sicuramente un problema del genere un problema così grosso e quindi il continuare in perterriti diciamo non cioè non è che ce ne siamo fregati. No non siamo stati attenti cioè volevamo fare quelli che nonostante il problema la vita continuava si andava avanti si potevano fare le stesse cose di sempre no ragazzi in questo periodo già dall'inizio bisognava cambiare qualcosa bisognava avere qualche accortezza in più perché comunque essendo un virus di cui non c'è cura non si può pretendere di fare tutto quello che si vuole senza conseguenze. Perché la vera e propria conseguenza è che se ci ammaliamo tutti poi gli ospedali si riempiono e una volta riempiti bisogna fare una selezione tra le persone che bisogna curare ed è brutto da dire questa cosa soprattutto in Italia dove la sanità è anche pubblica tra l'altro quindi non la paghiamo. Io ho letto recentemente non ricordo di chi fosse il post ma una cosa molto molto interessante che ci fa capire soprattutto una cosa vi faccio questo esempio nel senso riportando il post che ho letto e lo dico anche a te Michele. Allora immaginatevi vostra madre 55enne asmatica e con problemi di cardiaci ok si ammala di coronavirus sta andando al pronto soccorso per farsi curare eccetera o comunque meglio ha chiamato il 118 perché vi ricordiamo non è andato autonomamente al pronto soccorso in caso di sintomatologia. Ha chiamato il pronto soccorso ma ahimè la rianimazione è piena e devono far passare un uomo quarantenne in salute perché purtroppo è questo ciò che accadrà. Se noi continuiamo a riempire gli ospedali e le rianimazioni insomma o le terapie intensive di persone poi bisognerà fare una selezione in base all'età e quindi attenzione anche tu 23enne se dovessi trovarti nella stessa situazione e un bambino di 5 anni ok avesse presentasse sintomi di coronavirus voi 23 anni state fuori dalla terapia intensiva perché deve passare avanti il bambino giustamente di 5 anni quindi attenzione veramente a cosa stiamo facendo molte persone secondo me non se ne stanno rendendo conto mi viene da dire così cioè bisogna stare attenti. Allora c'è anche da dire che effettivamente rendersene conto è un po' difficile perché comunque essendo una malattia un virus è poco tangibile diciamo che è diverso magari che un problema come un terremoto come un alluvione di cui si hanno le prove effettive lo vediamo e possiamo effettivamente fare qualcosa. In questo caso noi non possiamo fare niente dobbiamo affidarci a chi di dovere quindi medici scienziati e al nostro governo tutto tutto che sia quello al potere o che sia l'opposizione quindi ragazzi loro non è che ci fanno stare a casa perché gli conviene o perché si divertono a dirci di stare a casa. Loro stanno studiando tutti i my3d per evitare questa cosa soprattutto delle terapie intensive o comunque del riempimento degli ospedali e stanno cercando di fare tutto il possibile in questo caso bisogna anche abbandonare tutto quello che è l'idea politica che abbiamo perché è un problema da affrontare tutti insieme e quindi sì magari si può criticare un po' il fatto che il decreto che è arrivato tra sabato notte e domenica mattina era una bozza. Quindi c'è stata una fuga di notizie diciamo che non ci sarebbe dovuta essere però comunque tutto quello che stanno facendo bisogna non bisogna accollarsi agli errori bisogna anzi dargli sostegno e supportare le persone che fanno di tutto per salvaguardare anche la nostra salute. Esattamente e attenzione attenzione a non dare tutta la colpa al governo perché tutta la colpa al governo proprio in realtà non ce l'ha allora sicuramente non si può negare non sono stati dei come posso dire non sono state delle persone con una velocità incredibile nell'eseguire le cose. E forse anche con una chiarezza non al 100% ottimale diciamo. Esatto però anche loro hanno il loro bel da fare e soprattutto dovevano studiare bene una manovra corretta perché insomma comunque sia ricordiamocelo una epidemia tra virgolette di queste dimensioni. In Italia io non me la ricordo ma il problema è che non se la ricordano nemmeno i nostri genitori forse alcuni nonni giovani nemmeno perché comunque arrivare a chiudere tutte le scuole le istituzioni e delle regioni si parla di una cosa veramente grande. Probabilmente anche il governo si è trovato impreparato di fronte a una cosa del genere e attenzione ripeto perché la colpa non è tutta del governo noi italiani ahimè siamo stati i primi a non osservare tutte le regole che ci sono state imposte fin dall'inizio quando sapevamo del primo contagiato. Attenzione non frequentiamo luoghi affollati non abbracciamoci non stringiamoci le mani insomma sembra che questo messaggio sia passato poco ecco. Sì diciamo che in Italia c'è molto questa cosa no anche del trasgredire forse siamo un paese in cui quando succede una cosa ci danno determinate regole tendiamo molto a trasgredire almeno quello che percepisco io ed è sbagliatissimo ragazzi. Noi dobbiamo avere fiducia comunque nel nostro governo al di là che sia quello che abbiamo votato o che non abbiamo votato perché se non abbiamo comunque una fiducia un minimo di fiducia. Non dico che se io non ho votato quelli che sono al governo adesso devo devo cambiare idea politica no però diciamo che devo cercare di analizzare razionalmente quello che fa se una cosa è giusta sostenerli se una cosa è sbagliata ovviamente non li sostengo. Però comunque dobbiamo cercare soprattutto in questo momento che non è un momento politico ragazzi è un momento che va affrontato tutti insieme. È un momento d'emergenza e dobbiamo esatto dimenticarci chi è il nostro politico preferito di turno qual è la nostra squadra del cuore di turno perché anche ahimè per quanto riguarda il calcio ne ho sentite di cotte di crude. E dobbiamo concentrarci tutti sull'emergenza ecco esatto esatto e quindi diciamo che dobbiamo osservare quello che ci dicono e dare fiducia alle autorità perché se non diamo fiducia alle autorità alle forze dell'ordine ai medici agli scienziati del nostro paese beh ragazzi crolla tutto non siamo un paese non siamo una nazione. Attenzione attenzione dunque mi raccomando in descrizione vi lasceremo il link alla gazzetta ufficiale anche per andare a reperire appunto questo decreto pubblicato in edizione straordinaria appunto proprio l'8 marzo quindi si parla di domenica. Leggetevelo se vi va è interessante sicuramente ha dei termini anche abbastanza complicati ma come giusto che sia perché chiaramente è un decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Mi raccomando fateci sapere anche voi cosa state facendo per cercare di contenere l'emergenza se magari avete avuto contatti con persone sospette e quindi vi siete messi in auto quarantena insomma fateci sapere che cosa state facendo per contenere questa situazione che ahimè in Italia è veramente molto grave e penso ci ricorderemo per sempre. Sì passerà sicuramente alla storia e i più giovani la studieranno a scuola sicuro certo e allora noi vi ringraziamo chiaramente per essere stati con noi in questo momento un po' complicato anche nostro perché siamo a distanza ma il podcast in due non poteva mancare quindi vi ringraziamo. Certo ovviamente doveva essere qua pronto puntuale per voi noi speriamo di aver fatto una buona informazione o comunque aveva creato un dialogo costruttivo insomma noi abbiamo detto cosa ne pensiamo noi ma fateci sapere anche voi cosa ne pensate cioè se secondo voi è ingiusto interrompere la movida per colpa di un virus scrivetecelo nei commenti magari anche voi avrete le vostre ragioni. Esatto esatto sicuramente possiamo creare un dibattito molto interessante e mi raccomando però fate in modo che si possa creare un dibattito interessante. Certo beh ovvio questo è alla base di tutto insomma non pretendete sempre di avere ragione ragionate con criterio mentale ecco mettete in ordine le idee e poi commentate liberamente. Assolutamente sì dai noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri social facebook e instagram iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un nostro video quindi schiacciate anche sulla campanellina lasciateci un bel mi piace e... Beh niente cosa cos'altro hai detto tutto se avete dei consigli se avete dei consigli scriveteci ad info-podcast.com se volete commentare questa puntata fatelo sotto qua nei commenti e se invece avete un'idea completamente diversa dalla nostra e vorreste magari entrare a far parte di un dibattito con noi anche attraverso appunto le tecnologie che abbiamo oggi come skype eccetera beh se volete essere intervistati scriveteci sempre ad info-podcast.com noi accoglieremo le vostre richieste E insomma se avete dei delle argomentazioni interessanti da poter condividere con noi saremo ben felici ecco di accettarle Assolutamente sì quindi ragazzi continuate a seguirci come già detto noi ci risentiamo mercoledì prossimo con un nuovo podcast in due Ciao ragazzi